Dopo Berlino torno a Napoli, dico mi do un mese di tempo, vedo cosa succede, se non succede niente faccio i biglietti, vado a Londra e continuo con il mio percorso perché qua non posso fidarmi di nessuno e non posso fidarmi di un settore che non conosco, ho fatto un provino per mare fuori ma comunque sai queste attese, le tempistiche, così è successo che praticamente sabato dovevo partire per Londra e venerdì mi arriva sta telefonata che lunedì c'è l'ultimo casting con Carmine Lia che ti vuole parlare e dico e mo' che faccio? E mia madre mi ha detto provaci, sono andato lunedì non ho fatto il casting, il regista ha detto che è stato preso per la naturalezza in cui resti posso provarci allora, voglio fare questo progetto e voglio vedere cosa succede